eccoci pronti per preparare i cookies con un goccio di cioccolato e nocciole allora per prima cosa andiamo a mettere in una ciotola l'uovo aggiungiamo olio aggiungiamo lo zucchero aggiungiamo lo zucchero aggiungiamo una farina di tipo 1 o una farina d'avena infine aggiungiamo un cucchiaino di lievito per dolci dopodiché aggiungiamo granella di nocciole e cioccolato che io sono andata a tagliare spezzettare eccolo qui pronto l'impasto andiamo a formare i biscotti aiutandoci con due cucchiai ed eccoli qui i miei biscotti sono pronti per essere infornati adesso li infornerò in forno ben caldo a 180 gradi per 25 minuti ma voi regolatevi sempre in base ai vostri forni andiamo ad infornarli inforniamo a 180 gradi per 25 minuti ed eccoli qui appena sfornati adesso aspettiamo che si raffreddino ed eccoli qui i miei cookies con gocce di cioccolato e granella di nocciole sono pronti e niente ragazzi sono davvero squisiti di consiglio di provarli io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao